Salve a tutti dal Jam Music Lab Mi chiamo Angelo Tatone e sono chitarrista Qui a Vienna c'è una grandissima scena musicale e sicuramente sarà possibile l'avvio di una propria carriera Il Jam Music Lab è la prima università della musica privata specializzata in campo jazz e popular music Il Jam Music Lab ha diversi punti di forza, uno dei quali è quello di un corpo docente conosciuto in campo internazionale Qui a Vienna da alcuni anni esiste il gasometer Music City Che ospita numerosi locali, scuole di musica, negozi di musica e un grande studentato Il Jam Music Lab si trova proprio all'interno di esso Inoltre il Jam offre dei curricula innovativi ai propri studenti Che combinano interattivamente l'insegnamento con la ricerca e la pratica professionale Il campus del Jam Music Lab si trova nel gasometer Music City Inoltre il Jam Music Lab Il Jam Music Lab Spero di vedervi presto al Jam Music Lab. Spero di vedervi presto. Spero di vedervi presto.